Terra Amara Anticipazioni che riprendono le puntate, che andranno in onda dal 13 al 17 marzo. Demir soffre quando Unkar gli dice che Zuleyha voleva scappare con Ilmaz. Sanye cade dalle scale e Zuleyha verrà accusata di tentato omicidio. Shermim non si presenta al processo dello Yaman. La vendetta di Apit contro Shermim Nella puntata di lunedì vedremo che tutti a Shukurova crederanno che la potente famiglia Yaman è ormai finita. La matriarca vuole dare buona impressione pubblica della sua famiglia, mascherando i seri problemi economici che hanno. Per dimostrare che non sono al verde, organizzerà una cerimonia di circoncisione per ben 100 ragazzi del villaggio, Sanyev avrà il compito di organizzare l'evento. Tutte le spese saranno a carico della famiglia Yaman. Ore dopo Unkar, sarà costretta a vendere i suoi terreni per far uscire Demir dalla prigione, poiché Shermim le chiederà un milione di lire turche, in cambio della caduta delle accuse. Sfortunatamente la signora non è in possesso di una tale somma e nessun amico di famiglia offre un prezzo ragionevole per le sue terre. Le informazioni sulla vendita raggiunge immediatamente le orecchie di Abit e Fecheli. Ore dopo Atip, arriva in villa per fare la sua proposta di acquisto a Unkar, tuttavia non riusciranno a trovare un accordo. Poco dopo, il direttore del carcere chiama Unkar per dirgli che Demir è in isolamento e non smette di urlare, avrebbe bisogno di vedere sua madre. La signora Yaman arriva nell'ufficio del pubblico ministero per parlare con Giulide e le chiederà per favore di permetterle di vedere suo figlio. Quest'ultima rifiuta dicendo che in isolamento ci sono delle regole che non possono essere infrante per nessun motivo. La signora spiega che sua nuora ha quasi avuto un aborto. La supplica di farle vedere Demir soltanto per questa volta. Dopo aver sentito le motivazioni della signora Giulide acconsente alla visita. Quando Demir si trova di fronte a sua madre, le chiede se è vero che Zuleya volessi scappare con Yilmaz e Adnan. Unkar conferma le voce sulla fuga, aggiunge inoltre che ha assunto più guardie in modo che lei non possa più lasciare la villa, poi continua dicendo che a breve lui uscirà di prigione. Tuttavia Demir lascia la stanza senza rispondere a sua madre. Lo Yaman sarà devastato quindi non vuole sapere altro su questa faccenda. Questa notizia lo porterà in una profonda depressione. Più tardi Fekeli chiama Unkar per dirgli che vuole acquistare il terreno per il prezzo che vale. Lui non vuole che lei debba svendere le sue terre, quindi si offre di acquistarla. Unkar non accetta la sua offerta, sa perfettamente che Demir non sarebbe d'accordo se venisse a sapere, ma lo ringrazia. Nel frattempo Zuleya, che è stanca della costante sorveglianza di Unkar, decide di confrontarsi con lei, le garantisce ancora una volta che non ha cercato di scappare, sebbene l'unica persona che potrebbe confermare la sua innocenza è la vecchia anziana, che purtroppo non riesce a ricordare nulla. In azienda il giorno seguente, Unkar riceve la notizia che non ci sono acquirenti per le sue terre, pertanto decide di accettare la proposta di Apit, quest'ultimo le fa un'offerta a ribasso. Unkar di fronte agli insulti dell'uomo d'affari ritratta la sua decisione e finisce per cedere la sua terra a Fekeli. Subito dopo, deposita il pagamento sul conto bancario di Sermin, come da lei richiesto. Arriva finalmente il giorno del processo contro Demir, tuttavia Sermin non si presenta per testimoniare a suo favore. Sia Unkar che Demir capiscono che sono stati ingannati, Sermin è scappata con i soldi, il giudice, vedendo che non c'erano cambiamenti nel caso contro il prigioniero, rimanderà Demir in prigione, dove dovrà continuare a scontare una pena per un crimine che non ha commesso. La signora Yaman sarà devastata, crolla in un pianto disperato, Unkar sarà molto dispiaciuta di non essere stata in grado di aiutare suo figlio a uscire dal carcere. Qui l'episodio torna indietro di sei ore prima del processo. Infatti vedremo Yilmaz che fa visita a Atip, lì lo informa, che Sermin ha ricevuto mezzo milione da Unkar per cambiare la sua dichiarazione. Atip inizia a preoccuparsi e manda tutti i suoi uomini a cercare la donna. Sermin, invece, organizzerà la fuga per Parigi, con l'intento di prendersi gioco della zia. La donna non ha intenzione di presentarsi al processo, tuttavia se ne rende conto che adesso ha molti nemici. Prima di partire si ferma in ospedale per salutare Sabattin, lì scopre che il marito è diventato il primario, ora è decisa più che mai di non firmare le carte per il divorzio. Poco dopo, proprio mentre stava scappando, gli uomini di Atip la trovano e la inseguono provocando un grave incidente stradale. Nel frattempo, a casa di Fecheli Beice riceve una telefonata che la informa, che deve tornare a Istanbul per risolvere alcune pratiche legate ai beni del fratello defunto, a lì che non sospetta le intenzioni della donna, si offrirà addirittura di accompagnarla a Istanbul. In cui il frangente in Villa Zuleya sta discutendo con la nuova infermiera che Uncara ha incaricato di monitorare la sua gravidanza. Saniye sente le urla e interviene. Purtroppo un sfortunato commento dell'impiegata farà nascere una grossa discussione tra la moglie di Garfour e Zuleya. La discussione si intensifica e Saniye finisce per cadere dalle scale. Zuleya è sconvolta e non crede a ciò che è successo. È stato un incidente, ma tutti l'accusano di averla spinta. Mentre Saniye sanguina e perde conoscenza, Garfour teme per la sua vita la porta d'urgenza in ospedale. Allo stesso tempo, a Istanbul Beice scopre di avere dei gravi problemi economici a causa di pesanti debiti accumulati dal fratello. Più tardi, dopo il fatidico incidente che ha avuto, anche il Shermim viene portata in ospedale. Sabati instabilisce che bisogna intervenire subito prima che sia troppo tardi e il tempestivo intervento del dottore e di Mujgan riescono a salvarla. Nella stanza accanto Saniye si riprende dalla caduta dopo la litigata con Zuleya. Sembrerebbe che la situazione non sia così grave come si pensava inizialmente. Infatti, la domestica avrà solo un forte mal di testa. La matriarca, che era andata a vedere come sta la sua fedele impiegata, si imbatte in una barella nel corridoio con sopra sua nipote. Non immagina che Shermim stesse progettando di fuggire con i soldi che ha depositato sul suo conto per testimoniare a favore di Demir. Mentre tutto questo succede, gli Ilmaz e Zuleya si incontrano e parlano di nuovo di fuggire insieme. Entrambe cercano di elaborare un piano per scappare approfittando della detenzione di Demir. In carcere lo Yaman crede che potrà evitare la pena capitale grazie alla ritrattazione di sua cugina. Il giorno successivo, Gulten confessa a Yilmaz di non aver spedito le lettere scritte da Zuleya per proteggere i due dall'ira dello Yaman. Le anticipazioni terminano qui. Grazie a tutti! Grazie a tutti!